Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuela Buffani e sono un assistente personale del centro medico Lazzaro Spallanzani. In questo video vi parlerò delle garanzie degli impianti dentali delle protesi fisse che si suddividono in tre categorie garanzie sugli impianti, garanzie sull'intervento e garanzie della parte protesica. Gli impianti utilizzati presso il reparto di odontoiatria del centro medico Lazzaro Spallanzani sono della Dentesply e della J Dental Care. Gli impianti sono in titanio e sono garantiti a vita dall'azienda produttrice. Questo significa che se per ragioni cliniche accertate si rendesse necessario la sostituzione dell'impianto non verrà imputato al nostro cliente nessun costo aggiuntivo. La garanzia dell'intervento chirurgico è di 10 anni. La garanzia sulla parte protesica va da 1 a 5 anni in base al tipo di materiale usato per la realizzazione del manufatto protesico. Le garanzie sussistono se il cliente rispetta il controllo periodico indicato dal medico, una seduta di igiene orale annuale e una corretta igiene quotidiana. Il passaporto degli impianti è un documento nel quale sono inseriti i dati relativi all'intervento chirurgico. Contiene informazioni sul medico che ha seguito l'intervento e la data dell'inserimento degli impianti. La posizione degli impianti e le sue caratteristiche fisiche, il diametro e la lunghezza. Contiene inoltre un'etichetta dove viene riportato il numero dell'articolo e dell'otto. Questo fa sì che negli anni l'impianto possa essere rintracciato. È un documento molto importante che garantisce assistenza a livello nazionale e internazionale in quanto permetterà ad altri odontoiatri di conoscere la storia clinica del nostro paziente il quale per un trasferimento o un viaggio si trova nella condizione di doversi sottoporre ad un controllo presso un altro specialista. Quest'ultimo, visionando i dati contenuti nel passaporto implantare, potrà intervenire per risolvere eventuali problemi o per un corretto mantenimento.